amici di motorsport.com ciao a tutti allora in questo gran premio di cina con un format particolare dopo la qualifica shutout della gara sprint dopo la garetta del sabato mattina abbiamo vissuto le qualifiche e come di consueto cerchiamo di andare a fare un punto di analisi con le telemetrie del nostro gianluca d'alessandro che saluto ciao gianluca ciao franco e un saluto a tutti allora intanto un giudizio sul sul format ti piace in questa formula oppure c'è qualcosa da rivedere allora premesso che la sprint già sostanzialmente cambia molte cose durante il weekend io non sono particolarmente un fan del del format dello sprint però devo dire che se la loro idea è fare un weekend con la sprint in cui la sprint è il punto principale noi siamo qua a parlare della qualifica e la sprint quasi ce la siamo già dimenticata di questa mattina quindi direi che ha senso per l'evoluzione del weekend vuoi fare prima la parte sprint e poi la parte dedicata diciamo al gran premio tradizionale però in questo caso secondo me si va un po' a svalutare l'idea della sprint proprio in sé abbiamo delle indicazioni utili in vista della gara però è quasi come se fosse già un capitolo quasi superato lo è a tutti gli effetti superato compresi i punti che sono stati messi in casella e poi si ricomincia allora andiamo a vedere la qualifica e abbiamo la centesima pole position della red bull conquistata dal signor max verstappen quinta partenza al palo della stagione trentasettesima pole position della sua carriera quei numeri continuano a diventare devastanti proviamo a fare un confronto non tanto con sergio perez compagno di squadra quanto un poco la sorpresa del weekend che è l'aston martin amr 24 di fernando alonso terzo sia nella shootout che in questa qualifica che cosa ne emerge gian luca allora prima di tutto è giusto e interessante sottolineare la buona prestazione dell'aston martin questo weekend perché se in condizioni di bagnato che di asciutto hanno fatto vedere buone cose sul giro secco diciamo che loro hanno una certa tendenza a fare bene in qualifica per poi fare un pochino di fare pochino peggio in gara c'è questa proprio questo trend che abbiamo visto una parte in sale della stagione concentrandoci invece proprio su il confronto tra verstappen alonso di questa qualifica notiamo come molto generalmente possiamo resumere che verstappen sia stato più rapido sostanzialmente in quasi tutto il giro non ci sono punti in cui alonso riesca a fare davvero la differenza su verstappen e infatti parliamo di un gap di quasi cinque decimi che è comunque importante credo che comunque alla fine sia interessante naturalmente vedere la prestazione il confronto rispetto a verstappen però anche interessante appunto sottolineare quanto bene abbia fatto l'aston martin fino ad ora in questo weekend molto bene allora rilasciamo il confronto primo terzo e andiamo ad analizzare un aspetto che secondo me è più interessante in proiezione della gara di domani e abbiamo scelto il giro di lando norris con la mclaren con il miglior giro di charles clerc con la ferrari quindi mclaren ferrari che domani è molto probabile a coppie si giocheranno una sorta di derby no per cercare di andare eventualmente a prendere il terzo gradino del podio se come hai accennato l'aston martin di alonso dovesse avere un crollo prestazionale delle gomme come abbiamo visto in mattinata durante la sprint race sì diciamo che durante la sprint race alla fine alonso ha fatto una barriera rispetto ai piloti dietro ha sfruttato una buona prima parte di gara per tenere tutti dietro gli altri sicuramente norris senza l'errore in curva 1 avrebbe fatto una gara molto diversa rispetto allo stesso alonso e potenzialmente sono proprio ferrari e mclaren quelle che si dovrebbero giocare l'ultimo gradino del podio tanto che anche science diceva a fine della qualifica è stata una qualifica molto difficile però in termini di gara in prospettiva di passo gara noi ci sentiamo un pochino più avanti rispetto agli altri e per questo è interessante notare anche appunto come sottolineavi il confronto tra le clerche e norris che evidenza alcuni punti piuttosto interessanti andiamo a vedere questi punti cerchiamo di spiegare bene agli amici che ci seguono qual è lo stato dell'arte e perché domani la musica in qualche modo potrebbe anche cambiare allora prima di tutto ripartiamo da un concetto quello della gomma nuova che in quest'anno Ferrari ha fatto un po' di fatica in termini di gomma nuova nel fare il passo tra Q2 e Q3 che si è visto anche oggi tanto che la Ferrari è quella che ha guadagnato quasi di meno rispetto ad altri competitor parliamo di un decimo poco più mentre altri avversari hanno fatto un passo molto più importante tra Q2 e Q3 e in questo caso la gomma nuova in certo senso copre anche i punti deboli della McLaren ne parlava Stella dopo Suzuka facendo il confronto tra qualifica e gara e anche qui effettivamente un po' come era la Ferrari l'anno scorso la gomma nuova ti aiuta a coprire certi difetti punto interessante analizzando il giro partirei dal primo settore perché il primo settore è uno di quegli argomenti di cui Leclerc si è concentrato dopo le qualifiche e ha sottolineato che è più in prospettiva gara se andiamo a vedere il proprio grafico telemetrico del primo settore notiamo come tra Leclerc e Nord ci sia una impostazione completamente diversa durante le qualifiche Leclerc hanno suggerito di modificare il suo stile suo approccio in curva 1 2 3 è quella sorta di curva particolare in cui conta molto avere una buona stabilità ma anche un buon anteriore e se andiamo a vedere alle Leclerc hanno suggerito di percorrere una traiettoria molto più larga per poi chiudere in curva 3 al contrario Nord è stato molto più interno e questo fa sì che notiamo come la sua velocità siano completamente diverse se andiamo poi a notare anche il grafico dell'acceleratore si vede proprio la differenza di come usano il pedale perché Leclerc essendo più largo gioca molto con l'acceleratore invece Norris essendo molto interno quindi facendo anche molta meno strada praticamente ha quasi l'acceleratore chiuso e si nota una certa proprio una certa differenza anche in termini di velocità con cui percorrono la curva e questo è solo per quanto riguarda l'inserimento in curva 1 infatti vediamo curva 2 e curva 3 poi Leclerc ha un piccolo vantaggio e si ribalta la situazione nuovamente curva 3 e curva 4 ma proprio perché c'è un'impostazione differente tra loro proprio nel primo settore. Molto bene poi però le cose vanno leggermente a favore della Ferrari nel secondo settore vediamo una Ferrari che arriva alla curva 7 ad avere addirittura 12 km di velocità in più mentre poi nel tratto successivo guidato alla 8 emerge la McLaren di Norris guardando questi andamenti sali e scendi Gianluca verrebbe da dire che la Ferrari ha scelto una configurazione aerodinamica leggermente più scarica rispetto a quella della McLaren spiegando le logiche di avere un po' meno trazione nel lentissimo e poi trovarsi meglio nel veloce. Allora in effetti McLaren sembra leggermente più carica però comunque parliamo di differenze che non sono enormi e importante sottolineare che in realtà comunque Ferrari nel secondo settore ha fatto un ottimo tempo a livello globale tranne il solito Verstappen in realtà Leclerc ha il secondo miglior parziale in Q3 proprio nel secondo settore anche davanti alle McLaren e infatti si nota la differenza in questo caso con Norris. Notiamo soprattutto come sottolineavi in curva 12 e in curva 7 scusa c'è una differenza di ben 12 km orari ed è data principalmente dal fatto che Leclerc è riuscito a tenere aperto il gas leggermente di più l'acceleratore con una fase di parzializzazione minore rispetto a Norris. In curva 7 e in curva 8 i valori si sono invertiti però non c'è quell'ampio gap che invece si è visto precedentemente in curva 7 ed è parzialmente lì come anche in curva 6 che Leclerc ha costruito poi il suo tempo nel secondo settore. Se andiamo a vedere invece ad esempio l'ultimo settore notiamo invece come ci sia una sorta di trade off tra la prima parte del terzo settore e l'ultima parte del terzo settore. Ad esempio notiamo la chicane curva 11, 12, 13. Notiamo come Leclerc si inserisca meglio e riesca anche ad avere una migliore accelerazione in uscita alla curva 12 tanto che il grafico dell'acceleratore in uscita ci mostra come riesca ad andare al 100 per cento dell'acceleratore in modo più rapido rispetto a Norris che invece ha una piccola esitazione. Però questo discorso poi si paga successivamente. Notiamo come sottolineavi la fase di trazione in curva 14 e anche in curva 7, in curva 16 perdonami, in cui McLaren riesce a portare maggior velocità in curva e riesce a fare la differenza. Però se andiamo a vedere i tempi globalmente tra il terzo settore di Leclerc e il terzo settore di Norris sono più o meno simili. Quindi lì c'è stata una sorta di trade off su quale parte del settore volevi privilegiare. La sensazione è che sia finita un po' prima la gomma della Ferrari di quella della McLaren, ma alla fine la prestazione cambiava di un millesimo, quindi sostanzialmente il trade off che tu stavi sottolineando. Il dato è interessante nell'analisi del giro perché ci lascia in qualche modo presagire che le parole dei due ferraristi non fossero fuffa a difesa di una qualifica che non è stata pari a quelle che potevano essere le attese della Ferrari, ma di una prospettiva concreta domani di poter cambiare lo scenario. Sì, ovviamente. Allora, diciamo che nella prima parte di stagione comunque si è visto un certo trend della Ferrari ad aprire, diciamo, quel gap sui rivali in gara. Anche, per esempio, pensiamo all'Australia comunque in gara si è visto una certa differenza tra Ferrari e McLaren, anche come a Suzuka. A Suzuka avevamo una situazione opposta a quella di oggi, nel senso che per McLaren andava avanti in qualifica e poi Ferrari andava avanti in gara su una pista globalmente che si pensava essere più a favore della McLaren. Qui abbiamo una situazione in cui, come hanno sottolineato giustamente i stessi piloti, pensano di poter fare la differenza domani in gara. Oggi è mancato un po' il riferimento di Norris con tutto il problema della Curva 1 che l'ha spedito indietro, però potenzialmente a pista Libra ci sarebbe magari vista quella differenza che poi magari si spetta domani. Va bene, siamo arrivati in fondo a quest'analisi, fine della qualifica e della visione di quello che è la lettura delle telemetrie. Gianluca, grazie dell'attenzione, grazie dell'approfondimento. Invitiamo i nostri amici che ci hanno seguito fino qui a commentare qui sotto e farci sapere che idea di gara ci vedremo domani. Ci sarà una Ferrari all'attacco in grado di andare a prendere il podio, oppure la McLaren saprà reagire in vista di quello che è l'appuntamento cinese. Sarà una curiosità da chiarire domani. Io vi do appuntamento al prossimo Gran Premio. Grazie Gianluca. Grazie a tutti voi.